Nel processo per il crollo della discarica alla torre è il giorno dell'accusa. Dopo 34 udienze, 50 testi e una super perizia finale voluta dal giudice Domenico Canosa, oggi tocca alla requisitoria del PM Stefano Giovagnoni mettere il primo punto fermo, che arriva dopo 7 anni dal disastro ambientale del 17 febbraio 2006, quando tonnellate di rifiuti precipitarono a valle. Oggi il pubblico ministero Giovagnoni farà le sue richieste, poi la parola passerà ai legali di parte civile e nella prossima udienza sarà la volta dei difensori, entro giugno ci sarà la sentenza. Per il disastro della discarica siedono sul banco degli imputati a vario titolo amministratori, dirigenti, ex presidenti di provincia, ex ed attuali dirigenti regionali, ex sindaci ed è in questa veste che il presidente della regione Abruzzo, Gianni Chiodi, è imputato. Quando la discarica crollò, il governatore era primo cittadino di Teramo. Chiodi, che così come hanno fatto anche altri imputati, nel marzo 2012 ha scelto di rispondere in aula alle domande di magistrati e avvocati, ha sempre sottolineato di non aver avuto nessuna responsabilità e di aver fatto, da sindaco, quello che gli dicevano i tecnici. Lunga e pesante la sfizza di accuse che il sostituto procuratore mette in campo agli imputati, dall'attività di gestione di rifiuti non autorizzata all'inquinamento dell'aria, dal crollo colposo al falso materiale, dal getto pericoloso di cose alla deturpazione di bellezze naturali, fino all'omessa denuncia di reato. Un disastro, secondo l'accusa, troppo a lungo preannunciato e ignorato da chi avrebbe dovuto intervenire. Omissioni, interventi mai fatti o fatti non a regola d'arte, una serie di concause, sostiene la procura, che nel febbraio 2006, nel cuore della notte, provocarono il disastro.